Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Sono qui con il video di Arika, Alil e Sila. Prima di passare al mio video, non dimenticare di iscriverti al mio canale, mettere mi piace al mio video, condividerlo e condividere i tuoi pensieri con noi nella sezione commenti. I famosi attori turchi Alil Ibrahim Ceyhan e Sila Turkoglu non hanno potuto sopportare di stare lontani e si sono riuniti di nuovo al matrimonio di Melioskaya lo scorso fine settimana. Questo incontro inaspettato dimostra che la coppia ha rafforzato la loro relazione e amicizia. Guarda qual è stato l'esito di questo incontro inaspettato. Alil Ibrahim Ceyhan e Sila Turkoglu hanno annunciato qualche tempo fa in una dichiarazione congiunta che si stavano preparando a fare un passo importante. Tuttavia, questa volta si sono riuniti per partecipare al matrimonio di Melioskaya e questo incontro inaspettato è stato accolto con grande entusiasmo dai loro fan. La coppia è stata vista sorridere e sostenersi a vicenda al matrimonio. Questi momenti sinceri hanno dimostrato che Alil Ibrahim Ceyhan e Sila Turkoglu hanno continuato la loro relazione e amicizia. Il matrimonio di Melioskaya si è trasformato in un grande evento a cui hanno partecipato personaggi famosi e ha attirato l'attenzione dei media. Tuttavia, il fulcro dell'evento è stato l'incontro tra Alil Ibrahim Ceyhan e Sila Turkoglu ed è stato accolto con grande entusiasmo dai fan. Questo incontro inaspettato della coppia rafforza ancora di più la loro relazione e stimola i loro progetti per il futuro. Il grande annuncio fatto da Alil Ibrahim Ceyhan e Sila Turkoglu era atteso con impazienza. Restate sintonizzati per le notizie su Alil Ibrahim Ceyhan e Sila Turkoglu. Arrivederci!